Allora, signore e signore, buongiorno a tutti. A voi tutti un ringraziamento da parte della società Garibaldina e della famiglia Totino per la vostra partecipazione a questa manifestazione. Il giorno 8 marzo di quest'anno è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari e a tutti noi, il socio e nonché attretta, Garibaldina Totino. Molti di voi lo avranno sicuramente conosciuto sui campi di gioco perché lui ha sempre partecipato sia ai campionati che alle gare programmate dalle varie società. Oggi la famiglia lo vuole ricordare insieme a tutti noi con questa manifestazione. Manifestazione da loro voluta e sostenuta. Penso e credo che Carmelo, da lassù dove si trova, sarà contento di questa giornata dedicata alla sua memoria e vigilerà sulla sua famiglia e su tutti noi. La famiglia è qui presente con la moglie, la squalina, i figli Antonio e Giuseppe, nonché con i fratelli, le sorelle e i parenti tutti. Un vivo ringraziamento va al Presidente Provinciale, nonché Vicepresidente della società Garibaldina, il Professore Nicola Colubriale, che ha tenuto i contatti con la famiglia Totino ed ha provveduto all'organizzazione della gara in ogni minuto dettaglio. Questa gara è stata inserita pure nel calendario dell'immagistazione estiva che la città di Sovere Mannelli ogni anno organizza nel mese di agosto. Un'ultima cosa, la divisa che noi oggi indossiamo è frutto dell'interessamento di Carmelo che ha trovato lo sponsor nel signor Riccardo Cristiano, qui presente, che ci ha dato contributo che è bastato a comprare la divisa a tutti gli atleti. Questo è stato Carmelo e così lo dobbiamo ricordare. Il Provinciale, nonostante l'attività era piena, ha sfruttato questa domenica inserendo questa gara in memoria di Carmelo Totino col quale ho insieme a Portofoglio partecipato quasi tutte le gare e quindi abbiamo voluto ricordarlo in questa manifestazione che penso sia e che da lassù ci possa guardare e assistere. Quindi buona partita a tutti e un ringraziamento a quanti hanno voluto veramente onorarci con la loro presenza. Approfitto dell'occasione che è arrivata il saluto dell'amministrazione comunale. Una buona giornata e un benvenuto agli amici che sono venuti da fuori di Soveria per assistere a questa manifestazione che ormai è tradizionale nell'ambito delle iniziative di essere a Soveria che come sapete sono 24 anni che scandisce l'estate calabrese e rappresenta un punto di incontro dal punto di vista culturale di rilevo meridionale. Oggi per esempio viene tra gli altri anche Mogollo il paroliere che è noto in tutta Italia e che visiterà anche la strada Lucio Battisti che abbiamo intestato nel momento in cui il grande artista è scomporso. E appunto oggi celebriamo oltre a una festa di sport e anche il ricordo di un amico che avremmo voluto non ricordare Carmelo Totino e purtroppo adesso con noi non c'è più non è anche potuto vedere la nipotina che è nata pochi giorni dopo la sua scomparsa. Ed è bello ricordare in una festa di sport che non c'è più perché quando muore uno sportivo è come se morisse un bambino ed è bello ricordarlo perché il ricordo dei morti sopravvive nella memoria dei vivi. Ebbene nel ricordo di Carmelo nel ricordo di questo sport così importante che ha mosso tutti voi da tutta la Calabria a venire a Soveria questo piccolo comune che invasa la teoria del baricentro e il centro della Calabria io vi porto il benvenuto vi formo i migliori auguri a voi ai dirigenti della Bocciofa e la Cari Baldini e vi auguro una bella giornata di sport. Tanti auguri e buon gioco. Grazie a tutti.